La politica e l'attività amministrativa di questo territorio. Sapete bene quanto e come in tutti questi anni mi sono speso per dare il mio contributo alla crescita di questa terra di Atrani che amo visceralmente e non mi sono mai e poi mai tirato indietro o risparmiato. Eppure, nonostante questo, nonostante l'esperienza che ho accumulato in questi anni, l'emozione che si prova in questo momento è veramente grande, credetemi. E lo è perché stavolta sono qui a chiedervi la fiducia a un progetto costruito con uomini e donne che in me hanno visto la persona in cui riporre la loro fiducia, a confidare l'enorme e bellissima responsabilità di diventare, se volo orrete, sindaco di Atrani. Stavolta a metterci la faccia, a giocarmi la partita, sono direttamente e principalmente io. Tutto questo mi emoziona profondamente. È davvero bellissimo vedervi qui. È ancora più bello sapere che siete qui per me, ma siete qui per noi, per il gruppo Atrani Futura. Siete qui per dirci che in questa avventura non siamo soli, perché al vostro fianco ci sono tante persone. Ci siete voi, donne e uomini semplici come noi, onesti come noi, determinati come noi. Qui stasera c'è Atrani, un Atrani che sogna, che combatte, che fatica, che si impegna.